Carta stampata, rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Iniziamo la nostra rassegna con il Corriere della Sera, Task Force per i vaccini, prenotazioni l'azienda Lombarda sotto accusa migliaia in piazza contro la DAD, sfida di Letta e Leggiamo due donne capogruppo in Egitto, Sana Comezaki, l'attivista condannata per le parole sui social, la denuncia rapita in strada da agenti in Borghese, passiamo alla Repubblica, vaccini il piano Draghi per scuotere l'Europa, Lombardia ancora in tilt, Figliuolo manda i suoi tecnici in ogni regione, Letta spariglia il PD, basta uomini capigruppo, non convocano gli anziani e il centro resta deserto, la stampa di Torino, vaccini, consegni a rilento, solo 200.000 dosi al giorno, ristori l'ira delle aziende, troppo poco, libero l'Alpino ha trovato la cura, il primo blitz del generale Figliuolo, scommessa, vinta a San Marino, Sputnik efficace e senza effetti collaterali, Scanzi sfotteva il virus, ora se vaccinato, disfroso, Giorgetti non fa scherzetti, ecco cosa ha in testa, passiamo al giornale, disagi sulla vaccinazione brutaria in Lombardia, speranza, chiusura, colori anche dopo Pasqua, Scanzi vaccinato, last minute, furbetto ma niente scandalo, PD bugie sul condono ai spioni, per la parità, il fatto quotidiano, vaccini, l'ultima catastrofe, Lombardia da commissariare, materie prime il rialzo che spaventa il mondo, proseguiamo con la verità, speranza, mente, Ricciardi, gufa, Draghi ha un problema, anzi due, Steve Bannon, Trump non molla, speaker nel 22, presidente nel 24, letta pittura di rosa alle purghe ma il partito gli si rivolta contro, passiamo al tempo, addio furbetti dal lavoro agile, nuove regole per lo smart working di Stato, raggi, licenze alla fidanzata dell'assessore, passiamo al messaggero, vaccini a rilento, stretta, draghi ed ancora via ai buoni spesa ma più controlli su finti indigenti. Continuiamo allora con il resto del Carlino, ritardi e furbetti il caos dei vaccini, ciao maschio, dittat di letta, i capigruppo del PD dovranno essere donne, no dei colonnelli, del Rio, l'ESA, l'autonomia dei parlamentari, candidato sindaco 15 giorni per un'intesa, lepore ai tini. Proseguiamo con il mattino di Napoli, vaccini, lumaca, allarme, draghi, Lombardia, disastro, anziani, il falso mito dell'efficienza. Passiamo allora a domani, l'ombra delle stragi torna su Berlusconi, dopo quattro archiviazioni la procura di Firenze raccoglie nuovi elementi sui possibili mandanti esterni dietro la strategia terroristica di Cosa Nostra, il voto ai sedicenni di alterazioni nel sistema che può cambiare il nostro paese. Passiamo al quotidiano del sud, piano vaccini, la Lombardia blocca il paese, l'obesità tra i giovani è destinata ad aumentare, gap digitale nord-sud così non si vince la sfida, high tech. E allora passiamo a Leggo, i dimenticati del vaccino, Turner e il mio Leonardo, un genio moderno vicino a noi, guerritore Fiorella Totti, mi assomiglia perché ci mette la faccia, pronto soccorso a Roma, caos, covid. E allora continuiamo con Metro che ci mette in primo piano la Juve, Juve, crack, poi vaccini si riparte ma le dosi sono poche. Continuiamo allora con il gazzettino, il quotidiano del nord-est Veneto, vaccini quasi finiti, zona rossa, il virus inizia frenare ma nord-est in leggera salita, la chiesa sul dirupo, corsa contro il tempo e primavera, sulle Dolomiti neve a meno 23. Continuiamo con il piccolo, il quotidiano di Trieste, sanità sotto stress, si allungano le liste di attesa, mancano i vaccini, per correre di più l'Unione Europea Sputnik non ci servirà, giornata dell'acqua così si sono risparmiati 14 milioni di litri, una salumeria con bar e tavola calda nell'ex caserma, il caffè San Marco e il capo in B al banco a un euro e mezzo, punta sottile perde lo storico Pino Storto, vittima della bora, Sport Alliance incocciata, quinto posto resta un'utopia, poi ancora un gol di Gomez mette le ali al Triestina. Lasciamo il piccolo, passiamo al messaggero del lunedì, anche infermieri e specializzanti per le vaccinazioni, Codroipo la protezione degli over 80 migliaio in coda, manager friulano immunizzato Dubai col cinese Sinopharm, Santosvaldo in lutto, morta la titolare del contadino, nomaschi in piazza, interviene il prefetto, saranno multati, lavori in al cuore di Feletto da oggi chiusa via Udine. Giornali economici, andiamo con il sole 24 ore, smart working, il nuovo lavoro oltre il Covid, le scelte del futuro, sostegni al via la verifica sul fatturato, l'agevolazione prima cosa guadagna 678 giorni, piano in tre fasi per rimediare i danni della DAD, professioni 24, cause tributarie affidate ai giudici specializzati. Proseguiamo allora con Italia oggi, 110% con effetti collaterali, l'attuazione del super bonus sta facendo registrare aumenti di prezzi sulle forniture edilizie fino al 30-40%, vari problemi sull'accessione dei crediti. Come pago? App su smartphone e piattaforme sempre più usate. Contro i cyberbulli, una battaglia ad armi spuntate, flop delle denunce, sei legislatore e disconnesso. Passiamo ai giornali sportivi, iniziamo con la gazzetta dello sport, pirlo nei guai, crollo Juve di ogni scudetto, su ogni scudetto, impresa Benevento, a rischio pure la Champions, se il tecnico difeso dal club accusa la squadra. Ed ancora vince 3-2 a Firenze e a meno 6 da Conte, Ibra ricarica il Milan, gol e pali, Slatano non molla, ora voglio il titolo, rinnovo, Maldini preme, assegno anche Diaz e Cialanoglu. Tensioni nazionali, l'Inter non ci sta, niente partita per i nostri giocatori. Mertens, Centoretina, Napoli spacca Roma nell'euro spareggio e Atalanta è terza, Mercato Azzurro, Pessina per il Diavolo e Chin può tornare. Passiamo al Corriere dello Sport, Juve una resa, clamoroso passo falso di Bianconeri, 0-1 nella corsa per lo scudetto, sconfitta in casa dal Benevento, l'Inter resta più 10 senza giocare. Scatto Milan vince con Ibra a Firenze, si porta a meno 6 da Conte, Mertens esalta un super Napoli, battuta la Roma all'Olimpico 2-0, colpo Lazio, Marusic gol per l'Europa. L'Otito e Inzaghi, ora chiaritevi, i diritti TV, la Lega replica Sky, accuse non veritiere. Passiamo a tutto sport, Inter più vicino ma il Milan non molla, Pirlo e Toro, derby per salvarsi dopo il clamoroso K.O. della Juve con il Benevento, ora il tecnico rischia grosso, il Toro cade con la Samp e rivive l'incubo della B, il 3 aprile una sfida da brividi, così Andrea si gioca alla Juve, la Dea trionfa e torna terza, Roma un altro stop, Super Mertens sorpasso Napoli. Ed è tutto per il nostro appuntamento con l'edicola, con i titoli principali dalle prime pagine di Quotidiani, appuntamento che si rinnova anche domani come al solito, alla stessa ora.